Questo è Vincenzo, il mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Ecco, vedi, queste invece annunze abitano vicino a me. Non le hanno consegnato un pacco dicendo che era della figlia doveva anticipare subito i soldi. Ovviamente quello che c'è in cascate e nel pacco non c'era nulla. Queste sono le cose che a me mi fanno capito. E a questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto c'è una fuga di gas. Io dico lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano. Lì non le sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine. Eh, è quello che dico io. L'importante è che uno pensi questa è una truffa e chiama i carabinieri. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi. Chiamate l'112. Noi possiamo aiutarvi. Oh, aprite bene gli occhi, eh. Ciao. Ciao.